Oh, che bella giornata! Aspetta, vediamo a che ore c'è! Sono già le otto! Papà! Ma la colazione l'hai preparata? Sono i ladri! Buongiorno! Che carina mattina! Ma che cosa stai facendo? Dove sta su alle otto tu? Vai a letto! Schifo! Hai le cose brutte! Stavamo parlando di cose personali! Io vado dal nonno adesso e gli dico che stavi violentando la mamma! Adesso non esageriamo, siamo anche sposati tecnicamente! Dove ho il telefono? Abbiamo un telefono? No! E come facciamo a parlare? Così, ciao! Ma io voglio parlare con i miei amici per dirgli che tu violenti la mamma! Ma non ho parecchio! Hai fatto quella cosa porno! Ma la roba le scatole! Una mia amica dice che se avvicini le labbra vuol dire che la metti incinta? E fa anche lei sì? E già tanto se questa qua la tocco figuti se la metti incinta! Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati con la Mini Pixelmon! Siamo tornati! Io e la Mini Asi... Senza creparci, senza creparci male! Perché noi non uscivamo più con la Mini Pixelmon! Invece... 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 Invece siamo... Invece siamo qui anche oggi! E abbiamo apportato tante modifiche alla zozza! Andiamo a farle vedere! Vieni a vedere cosa mi ha costruito il nonno! Pensavo di averlo fatto io ma sono dettagli... Questa è la Kaja! Questa mia nonna! No, questo è il mio nonna! Ma non abitava scusa in Giappone! È venuto qua fino a qua addirittura... È venuto qua perché vuole farsi mantenere da te! Ah ecco fa piacere! Lui c'è i soldi ma si vuole far mantenere da te! Infatti lo dici anche sono qui per la piccola Genka! Eeeeee qui per me! Spero che è trattato bene mia figlia non mi piace Davies è proprio un suocero del cazzo! Vai che lo faccio vendere! Di sicuro la pensione la do a loro! Ma vada un'affanculo! Mi cazzo sul cazzo! Però il parco giochi! L'ho fatto io il parco giochi! Non mi interessa! Il mio parco giochi! Poi voglio anche un'altalena per il papà! Ma questa è l'altalena! E spingi? Papà? Eeeeee! Ma non si muove! Eeeeee! Eh te la troppo è per tesere! Adesso le vado a distruggere la sua camera! No! 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 Non ci puoi entrare senza il primo studio Genka! Ma se non fai bene! Quindi adesso? No! Fermi! Devi bussare e dire il codice segreto! Toc toc! Chi è? Biscardi! Parola d'ordine? Aldo Biscardi! No! Non è quella! Ma no! Sei brava! Strano! La parola d'ordine è Senchina piccolina di... Di... Basta! Ascolta ma hai rotto le bolle! Senchina piccolina! Mi faccia entrare! Ecco! Venga! Madonna! Adesso la mia camera! Hai uscita dalla camera! Pensa! Non l'avevo mai vista prima! Pensa a te! Questa non l'avevo! Questa è la testa di... Che Pokémon è? Quittal! Come si chiama? Quittal! Ma veramente sarebbe Wobbuffet! Ah! Questa! Non ti si vede! Papa! Non ti si vede! Aiuto! Eh! Perché sono? Si è buccato! Non ti si vede! Per poi non è buccato! Ah! 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 A posto! No! Chiudi! Non è castrata! Mamma! Chiudi! Ha spaccato la sedia! Si è buccata! Ma la fe... No dai! Chiudi! 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 Ha bisogno incassare! Ok! La sedia me l'hai rotta! L'hai rotta tu! L'hai rotta tu! L'hai rotta! Questi sono invece tutti i miei disegni! Che rara! Livello recitazione a stile Brad Pitt di bravura! E complimenti! Aia porco! Mi piacciono i miei disegni! Hai fatti te? Sì! C'è un motivo perché in arte hai preso due! Comunque! Dicevamo! Questo? O quattro io! Questa è la mia lavagna per i compiti! Si vede infatti è vuota! Ho già fatti i compiti oggi domenica papà! Ah sì? Ah! Andiamo dove andiamo? Andiamo 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 dove? Andiamo di qua! Esploriamo! Ah ma fai vedere come sta il tuo Charmander! Il mio Charmander! Eccolo qua! Che nessuno ha dato un nome a sto Charmander! E' vero c'è te stronzi! Ti bastardi! La torre le puoi dire ste parole! Ops! Mi ha detto la zenca del futuro! Mi ha detto la zenca del futuro! Ma guarda! Papà aspettami! C'ero picciolina! Mi sono incastrata! Aia! Ma non sa saltare! Non c'entra niente il picco! Non è proprio capace! È diverso! E' come seguire le coordinate! No che è lì proprio zero! Ma dire in giro cosa ti sei messo attosso o no? Ah! Non pensavo che mi avessi vista! No! Questa! E' una texture! No! No! Fermi! Con calma! Aspetta! Metto qui! Vai! E' una utilità! E' la scuola ci ha dato in gita! Ci siamo dati in gita! E' la scuola ci ha dato questa gita! Bella, vero? E non c'è cosa vuol dire R! Ma fa fico! Eh! Vuol dire che sei una brava persona! Vuol dire che sei una brava persona! R di Rappets! Rappets! Dove c'è? Sono sceso! No! Hop! 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 Dove? Eh! Andiamo a cercare! Ah! Ok! Ah! Rappets! Rappets! Cosa c'è? Rappets! Ti devi aiutare! Hai bisogno di qualcosa? Cos'è? Cilicone! Silicone! Sì, è silicone! Silicon Valley! Vieni qua! Adesso come vieni? Prenda la terra! Da dove? Ah! Ah! Perché è un fiore anche? Perché c'era quello sotto la terra! Ah! Ma allora si è impedita proprio! Mi ha buttato qualcosa lì indietro! Ma cosa vuol dire? Mi ha buttato qualcosa lì indietro! Vedi! Cosa stai facendo? Non l'ho capita benissimo perché! Aspetta che metto giorno che se no! Siamo in giorno! Ah! Che chifo! C'è un granchio! Eh cercami! Io sono sugli alberi! Dove cazzo è andata? Cos'è che vedi? Cos'è che vedi? Pumping! Ma no! Ecco! L per vedere la prospettiva del combattimento! Ma non vedo il combattimento! Ah! Ho saluto le balle! Non riesco a costruire di basterlo! Ehi! Che se sei scarsa però! Pesca a catturarlo! È scarsa! Non è che c'è la 10 di vita! Ma non è quello! Usiamo una Ultra Ball! Ah! Ci siamo fatti delle Ultra Ball anche! Qualche Ultra Ball! Qualche Poke Ball! Insomma! Fare qualche cosa! Che c'è la fettiamo indietro! Ce la facciamo! E non ne diamo a fine mese! C'è la gente che muore! E il mio figlio poteva morire! E il mio figlio poteva morire! E non ci guardate più! Voi non mettete più like a nostri video! Ma che già li mettono! Eeeh! Siete scarsa! Ragazzi! Mettete like! Per favore! Siete scarsa! Ma se no non potete ciubbottare la cerchie! Perché già troviamo a faticare il tempo! Beh adesso che io poi tra una settimana torno e riprendiamo il mio figlio! Tecnicamente sei tornata! Ah sì! Buotare meee! Questa la taglio! No! Dai! Sì! Non le puoi dire! Dai! Pampii! Sei scarsa! L'ho catturato! Quanto hai sprecato di Poke Ball? Tanto per sapere! Ehm! Ne avevo c'erano i 8! La metà sprega! Più le Ultra Ball e la Low Ball! Pampi è Pampi! Io non lo faccio volvere! Mi spacco la schiena! Per rendere le ste robe! Io sono allontanato! Ma mi hai raggiato da giola! Eh sei stato me hai abbandonato tu! Ho trovato il pochino che mi piace! Al 33! No! E che i miei pochino non hanno più vita! Ma sei scarsa! Che? Dove? Se tu devi rumore è tipo uccelli! Ma non li vedi? Ho uno Starly! Prendilo! Starly! Io ne qui! Starly! Che battutone ragazzi! Perché questa qui la dovevano mandare alla Starly! Starly sei qui! Eh! E la Madonna! Ha fatto malissimo! Ma che è? Poche! Sfera poche! Vai! Questa magica mi fa la bua! Ma c'ho già azione! E lo cattura al primo pochino! Ma... Ma lol! Quanti ne hai adesso papà? Due! Ne ho tre pochino! Perché uno è venuto con te! Perché gli hai salvato la vita! C'era anch'io! Perché te la roba a me niente? Perché hai capito chi vale! Sì! Non vuoi la cagare! Poi... A quale mi hanno detto che se voglio potenziare i miei Pokémon faccio fare le battaglie con i miei amici! E quindi? Quindi diventerò fortissima! Ma per piacere! Guarda papà! Guarda! 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 Che cosa ho trovato? Un Sirkon! Papà! Un Pikachu! Ehi! È all'otto! La catturano papà perché io non ho niente! Ma lo dai a me papà? Un Pikachu! Vai papà! Se non mi ammazza prima lui! Io voglio un Pikachu! Se non mi ammazza prima lui lo catturo! Sfera poche! Vai! Dai! Ah io li catturo te proprio al colpo! Come hai fatto a non catturare al primo colpo? No! Io li catturo! Io li combatto! Ma anch'io! No! Sì! Un Kakuna! Tu c'è? Un Pachirisu! È mio! Voglio un Pachirisu! È livello 16! Prova a catturarlo come fai tu! Faccio un verme! Un verme! Come si chiama il verme? Come c'è? Aleppine! Ah! Whirlpool! È evoluzione prima di quel bozzolo che stai cercando di fare da un'ora! L'hai catturato poi quel bozzo? Che strano! No! Ho attaccato un Inkada! C'è una polena! Weimer! Mi evocio! Però 44 è fotticcio! Devo poter catturare i miei Pokémon! Ne lo tengo io! Non mi ricordo se c'è l'evoluzione di... Cos'è che tu ti tieni? In Inkada sto cercando di catturare! Non mi ricordo se c'è... È un po' come un insetto! Non mi ricordo! L'evoluzione in teoria è tipo un ninja! Ninja? È tipo Naruto! Sapevo che lo diceva! Guarda che... E lo cattura ragazzi! Sono troppo OP! Come fai? Io sono OP! Non c'è più l'acqua! Vedete la mamma? Però io da un Pokémon sono molto piccato! Papà! Andiamo a caggia che ci rifugliamo! Aspetta! Questo mi risciotta tutto! Pikachu! Tuono fulmine! Pikachu! T'hanno comprato i cinesi! Della verità! ULTRABALL! Madonna! Non si... Non lo cattura! E faccio caso che questo è il Pokémon che dovrebbe catturare per te! Infatti non si cattura! Dai! Preciserei anche sta cosa! Sto catturando! Hai catturato? Me ne ha shotati tre prima di poterlo catturare però! Yeee! Allora andiamo a caggia e facciamo gli scambi! Andiamo a caggia! Ce l'abbiamo il computer? Eh no! Ah! Come facciamo? Facciamo il trame! Ma noi amo tutti poi! Ma se sono arrivata! Eh io no! E quindi... Ehm... Come faccio? Guarda! Vedo casa! Vedo casa! Un bufagiao! No! 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 Ehm! Fatti giri! Oh la madonna! Cos'è quella folla? È liritto! Madonna! Mega Venus! Ah! Eccola! Io devo ancora rifullarmi! Sì! Fai le sfide senza primaveri i pokemon curati! Questo è il mio nincada! Aspetta! Aspetta papà! È brutto! È fortissimo! Ti puoi vedere Pikachu e Pacerigio? Ehm! Ehm! È fucciocicici! Vero papà che questo non ci evolve? No! Ho studiato! Ehm! Questo ci evolve? Invece lui ci evolve con una pietra a tuono! Ah che stia davvero? No ma c'è già! No! Dobbiamo fare la macchina dei pokemon per rifullarli! Vediamo che è notte fonda! Dobbiamo fare la macchina per il scambio dei pokemon e computer! E tutto in una volta? No! Adesso facciamo il computer! Con la macchina per cambiare i pokemon! Per rifullarli! Cosa preferisci? Adesso facciamo il computer! E fatto vedere la macchina dei pokemon! Quella lì! Questa poi! Ehm! Voglio la vedere! E' un piccone che non l'avevo preso su! Si può rompere! Te lo sai? Poi! Ok si si può rompere! Si può rompere! Allora meccanica enveld! Fa vedere che mo' non mi ricordo più come si crafta! Apri la crafting! Ci metti qua sopra! Un'incudine! Una fornace! Un blocco di diamante! Ehm! Da quel che vedo ossidiana ai lati! E due torci di redstone! E fai questa macchina! Chi se non ricordava più come l'avevo fatta! Eeeh! E adesso è una macchina per lefullare i pokemon! Eh! La fai facile! Questa che cosa è papà! La fai facile! Questa qui papà! Perché stai volando? Ah ma c'è c'è un blocco! C'è un blocco! Questa papà che cosa è! Allora per fare la macchina ehi! Non abbiamo il materiale! Questa che cosa è! E la macchina scambia pokemon! E' quella ancora più difficile! Qua c'è un pipitrello! Dov'è? Era qua un pipitrello! Ma chi l'aveva vista? Eccolo lì il pipitrello! E' veneti notte vero pipitrello! Non lo vedi! E' là! Non lo vedi! Pipitrello papà! Non lo vedi! Ma porca! Ma porca! Come c'è una monella! Ma come te ne vai da lì? Guarda! Ecco! Boom! Mi scusi! Venga qui lei! Venga qui! Lei osa picchiare! Va che va in castigo lei adesso! Vada in camera sua! Vada in camera sua! Ma! Vada in camera sua! Giù di lei! Nonno! Dentro! Puh! No! Va dentro! Lo c'hai fatto? Eh? No ho salutato il nonno! Vada dentro! Vada dentro! Vada chiuso! Io domno! Attive ed essi! Arrivederci! Bene ragazzi! Spero che questo episodio mi possa essere piaciuto! Vada dentro tu! No! Vado in salita anche i ragazzi! E va dentro io! No! La camera mia! Non ci voglio entrare! Da dentro! Ragazzi! Sarei questo episodio mi possa essere piaciuto! Vi posso essere piaciuto! Vado veramente che vi piace perché vi piace la pezzina! Perchè che vi piace la pezzina! Vi ho lasciato la sera più seguita del video! Commentatelo! Condividetelo dunque! Anche a subito la comando! E niente! Per il momento possiamo dire da fuori! PINITAAA! Hihihi! Ciao ragazzi! Dentro! 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 Che giargiangela e quel pirla di david! A me sta cosa mi inizia a stare sulle balle! Non vorrei dire ma la cosa mi inizia a stare leggermente sulle balle! Ma c'è andato! Eh! Lo devo anche mantenere! Ehi! Che bello! Perché l'inzio non lo mantiene! Che bello! Eh! Ciao ragazzi! Ah! Aspetta papà ti devo mandare un regalino! Regalino alla mamma! No! La mamma si regala il pesce crudo! No ragazzi! Addio! 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 Amici! Addio! 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 Addio!